17 marzo 2021 barone vassallo pierpaolo lorica su rambl iscrivetevi e condividete il video oggi un video bellissimo che parla di una azione legale contro 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 indovinate chi bene andate a vedere il video e lo scoprirete vi lascio il link qui sotto nei commenti il link di rambl mi raccomando iscrivetevi e condividete perché questa volta alea yakta est il dado è tratto inizierà una serie di richieste di risarcimenti che finalmente chiaramente daranno una bella spallata a chi immette in commercio cose che non fanno bene ciao a tutti a domani